Nelle pieghe oscure della rete si nasconde anche un traffico clandestino di farmaci illegali perché pericolosi per la salute. I carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazioni, hanno oscurato negli ultimi tempi almeno 61 siti che offrivano diverse tipologie di medicinali, tra i quali anche alcuni pubblicizzati come anti-covid e vari prodotti il cui commercio è vietato dall'Agenzia Europea per il farmaco perché possono provocare gravi rischi per la salute. Durante gli anni della pandemia ha aumentato il numero delle persone che fanno ricorso a presunte farmacie che vendono in rete farmaci molto spesso non autorizzati perché soggetti a prescrizione e pubblicizzati come miracolosi per prevenire e curare diverse patologie, tra questi soprattutto medicinali per il trattamento della disfunzione rettile e per la cura del covid-19. Per quest'ultima tipologia venivano venduti anche l'invermectina, l'antibiotico azitromicina, gli antivirali lopinavir e ritonavir e l'antimalarico idrossiclorichina, tutti da somministrare all'interno di strutture mediche. Non mancavano poi i cosmetici con l'etichettatura irregolare e integratori alimentari a base di ingredienti non autorizzati. I carabinieri che monitorano costantemente il web ricordano che la vendita online di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione è assolutamente vietata.